Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio su FIFA 17 Allora, sono raffreddato Marche e quindi la mia voce potrebbe risultare diversa da quella del solito Questa è una parentesi che magari non vi interessa, però ve l'ho detto tanto per essere corretto Allora, ce l'avevamo lasciati qua 15 agosto, vabbè, fai ad agosto E la situazione attuale è questa qua per quanto riguarda la formazione Dico questo perché? Perché bisogna sempre agire un po' sul calci mercato Tanto che comunque soldi ci sono e siamo comunque dentro al calci mercato estivo Guardiamo di portarci a casa qualcosa Allora, vorrei fare una precisazione che però non so se manterrò L'idea è quella, poi si vedrà A differenza del primo episodio in cui qualsiasi giocatore mi era venuto in mente Ho messo comunque chiede informazione, ho fatto le offerte o bla bla Stavolta vorrei un attimino prendere e fare offerte solamente a giocatori Che veramente potrebbero a parer mio sistemarmi la rosa Quindi secondo me i ruoli che dovremmo principalmente sistemare sono 2-3 Allora, il primo è il portiere Che non è qualitativamente scarcio quello che abbiamo Però comunque rispetto a quello che vorrei prendere è più vecchio E quindi secondo me ha meno possibilità di crescere da quello che abbiamo ora Rispetto a quello che vorrei prendere Che fra l'altro se dovessi prendere quello che ho in testa Più o meno ha il suo stesso valore a livello qualitativo E poi il centrocampista centrale difensivo Che ora c'è Shelby che non è assolutamente male Perché comunque è un 78 Però anche lui ha diciamo questo sorta di problema nell'età Io quando dico problema dell'età mi sto riferendo a giocatori che hanno più di 24-25 anni Che anche se comunque diciamo è che sono agli sgorci della carriera Anzi sono più o meno a metà Però rispetto a quelli che io sono abituato a prendere Quelli che vorrei prendere sono tra virgolette più vecchi E hanno meno possibilità di crescita Quindi diciamo che io vorrei prendere Innanzitutto In primis questi due giocatori poi arriviamo al terzo Per avere come diciamo vorrei investire su alcuni giovani Che secondo me rispetto a questi qua hanno più potenziale di crescita E questi sono i primi due Quelli che secondo me sono veramente da prendere Il terzo perché ho detto due o tre Il terzo sarebbe un COC barra esterno destra Perché sta già in tutti i due ruoli Anche se il suo ruolo principale è quello di fare il trequartista Overe il centrocampista avanzato E quindi lui sarebbe se ce l'ha da prendere Solo se ce la dovessimo fare Se non ce la dovessimo fare Pace Allora parlando di Di nomi effettivi di questi giocatori Allora c'è da dire che Per quanto riguarda il portiere L'idea è Donnarumma Donnarumma che Già Ci stavo pensando E fra l'altro mi è stato consigliato Quindi ho deciso di fare un'offerta Intanto chiediamo informazioni Però nel frattempo La facciamo Allora guardiamo se Riusciamo a metterci qualcuno Per evitare O perlomeno per provare Magari calare un po' il prezzo Ma Cala di po' Però ci metterei Woodman Tanto per Adesso che il portiere Quello che mi è ora non possiamo mettercelo Chi se secondo me cambia po' E facciamo un'offerta di 8 milioni Se non sbaglio Mi sono un po' informato Donnarumma all'inizio del gioco Vale Di cartellino 7 milioni Quindi magari prima o 8 Arrivano a qualcosa in più E vediamo un po' Poi l'altro Parlando di centrocampisti Difensivi È lui Amartei Si era già fatto l'offerta Non mi ricordo Se nel video precedente Si a quanto pare Si 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 era già fatto l'offerta Appunto Si era fatto a meno E niente Quindi è lui Che a regola Dovrebbe venire E l'altro È lui Anche lui mi pare Si era fatto l'offerta Mi si era fatta l'offerta Però sinceramente Sono passati sverati giorni Dalla registrazione del primo episodio Sarò sincero Non mi ricordo E anzi ricordavo Se avevo fatto l'offerta Anche a lui E a quanto pare si Quindi procediamo Per ora Gli obiettivi sono questi Poi Non lo so Magari a mamanza Qualche sordo Si può Magari eventualmente Pensare ad altro O magari si vendeva Alcun altro Boh Comunque Andiamo un po' Intanto Prosegue la trattativa Per darlo Hanno accettato La nostra contro offerta Questa me la ricordavo L'avevo fatta Incredibilmente In alto a sinistra Nel chito 82 È tornato 82 Poi almeno Una cifra intorno all'80 Non so come mai Appena Ho caricato la partita Era Quando era 71 Non lo so Comunque Fra l'altro Ho scoperto che Anzi questo ve lo faccio vedere Così perlomeno Ci si rallaccia Il discorso Iniziale Del primo video Allora Ho scoperto che Il numero Praticamente È una sorta A regola Deve essere così Una sorta di media Su gli obiettivi Che ti chiedono Quindi il 32% È una buonissima media E quindi però Siamo appunto In linea Come c'è scritto Per quanto riguarda Gli obiettivi Che non so Se vi ricordate Ho detto Ma qui Non so Dove arriva In campionato E altre cose Per capirli Basta solamente Andare qua E vederli Ognuno C'è singolo Per singolo Via Vedete Qui c'è la panoramica Che ti dici Che allora L'obiettivo Per quanto riguarda Il campionato È quello di vincerlo Poi C'era Cos'è Allora aspettiamo Si fa con calma Poi Per quanto riguarda Crescita giovani Guadagna 3 milioni Dalla sessione Di giovani Entro due stagioni Fama del brand Acquista Un giocatore Chiave Prima squadra C'è centrocampista O centrocampista Vabbè Poi c'è guadagna 15 milioni Poi c'è questo qui Niente Perché comunque Non partecipiamo A nessuna coppa internazionale Questa beh Si rallaccia Gli scorsi di prima Successo in patria Vinde ancora Gli scorsi di campionato E poi c'è anche Alla F-Cup Di arrivare Se possibile All'ottima di finale E poi c'è Riduci l'ingaggio Giocatori 50 mila euro A settimana Chiaramente Per quanto riguarda Quali sono gli obiettivi Diciamo primari Secondari Blablabla C'è scritto qui sotto Quindi quando c'è scritto Uno Quindi massima Sono obiettivi primari Ho scritto due altre Sono secondari Ma non troppo Misto tra primari Secondari E poi così E poi insomma Così via No questa è una cosa Molto superficiale Però ve lo Ci teniamo a farvela sapere Per quanto riguarda Vedere gli obiettivi E quali sono gli obiettivi Effettivi Comunque Siamo arrivati qua Prima giornata di campionato Fatemi fare una cosina Prima di iniziare Perché mi sono accorto Poi dopo Che io potevo benissimo Fare questo Sicuramente più corretto Di quello che c'è adesso Almeno a parer mio E basta Che non ci sia altro Daffa No Piuttosto Metto lui Per un semplice emotivo Clark Ha 26 anni Non è vero Chiaramente però La scelta Se non è a 22 Se non è a più possibilità Di crescita Metto questo Niente Usciamo Ed iniziamo la partita Allora per quanto riguarda Le maglie Io direi di mettere questa Perché comunque Anche se c'è il bianco Però C'è la differenza Fra blu e nero Almeno si spera La condizione va Abbastanza bene per tutti Eventualmente vedremo qualche cambio dopo Detto questo Iniziamo Giochiamo in casa In notturna Battono però Che il calcio inizio loro E detto questo Damo il via alla partita Bono Dio Bono Vai Chelecione Eccolo lì Chelecione Anaccio È la sua prima presenza Se non sbaglio Finisce così il primo tempo 1-0 per noi Non è una bella partita È stata in pochissime occasioni Anzi Adesso in correnti Ce n'è stata solamente Una per noi Una per loro Ma quella per loro Non è stata per niente Pericolosa Insomma Però alla fine è buono così Perché siamo in vantaggio noi Fatemi fare un cambio Tolgo Tilemans E metto Di a me Attenzione Mamma mia Eh no 1-1 È rimasta la palla lì Fuori gioco No Non è fuori gioco Vabbè Dai Cerchiamo di Di riportarci in vantaggio Attenzione 2-1 Mamma mia Ribaltato il risultato Porca merda Però come si dorme dietro lì Dai Sveglia un po' Fa chelecione Ma Perché Ne ha dato noia Cambio A quanto pari Si è fatto male Gianaccio C'è il cerottino Quindi Mettiamo Perez E fra l'altro Vallevanrice E mette Arions Che Anche se non è il suo loro di ave Arrega comunque Pur sempre in esterno E ci dovrebbe sapere sta Allora Mamma mia Però se ne prendo un'altra Ma dai Svegliamoci un po' Vai Lazar Madonna Santa Finisce così Increibilmente Da vincere 1-0 In un tempo Si prende Nel giro di Po Due gol Vittoria Meritata del reading Guardate anche le statistiche E niente Si è perso E è andata lo sì Diciamo che L'ossa buona È che siamo All'inizio del campionato Quindi se almeno Può influenzare Veramente Veramente poco Almeno per ora La classifica Però bisogna Cercare di Cambiare subito Perché Dopo 3 giornate Dei 4 punti Con Newcastle Che è una squadra Che in teoria Sia nella realtà Che nel gioco Comunque dovrebbe Lottare Sia da subito Dalle prime posizioni Questa cosa Non va per niente bene Comunque Sono arrivate In regola Ci sono dei messaggi Buono Accettati per Donnarumma Accettati per Odegaard E il Lett Deve continuare a rompere Le palle Perché se non sbaglio Anche nel precedente video Non voleva accettare La nostra offerta Quindi proviamo 9 milioni Andiamo invece All'Oreo Intanto Donnarumma in primis Va bene Così Proviamo Mettiamo Che una squadra Che una squadra Magari viene Offrendo In contratto Più o meno Guarda quello Che vuole Insomma Andiamo avanti E vediamo un po' Tanto è arrivata Un'offerta Di trasferimento Per Anita No Se nel caso Datemi 3 4 Almeno proviamo Vado che vale 3 milioni e 10 3 milioni e 100 Vabbè Tanto avevo dovuto Darlo Ok Comunque Siamo arrivati Ad un'altra giornata Del camperato La seconda partita Del video Ci gioca fuori casa Guardiamo Se le cose Vanno Ma diverse Per quanto riguarda La maglia Va bene Così Formazione Ok Buono Non si è fatto niente Ok Giochiamo Stavolta Come avete visto Si gioca in casa E ribattono Però il calcio Inizio loro E via Inizia la partita Vai Mitrovic Vai No È buone E vai Tilemanze Buttala dentro Dai Attenzione Mamma mia Meno male Ci ha messo il piede Chissà cosa Poteva succedere Non ci vedo Dai Ma che Cazzo Ma ha preso anche Così il primo palo 1-0 Mamma mia Che inizio brutto Di video Per quanto riguarda Le partite Frisci il primo tempo Stiamo Riperdendo Bisogna cercare Di cambiare le osse Bimbi Perché così Non va per niente bene Dai Ma cos'è Dai 2-0 Ma si scherza Occhio 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 Sì Vabbè Via 3-0 Io Capisco Non capisco mai mai Vai Vai Ricci Prova Non cambiava niente Perché tanto probabilmente Si andava a perdere uguale Però Occhio Ci si mette anche la traversa Vai Se ne prende un altro No Meno male Strano Vai 4 Bordalo Pochi Ai ai Frisci si Partita inguardabile Vella nostra E niente Non voglio nemmeno commentare Vittoria meritatissima Comunque Per il bristo Però Boh Così non è Non è veramente La via per andare in paradiso Ma per niente Che io capisco Che alla fine Oh È un gioco Però Tipo ora Sembrava niente I giocatori facessero Cosa ne pare E poi Lasciassero Anzi Lasciassero Lasciavano delle bue Abnormi Soprattutto dietro Io Boh Non ho parole Comunque Sono arrivati Vabbè Ci sono delle notifie Allora Odegaide ha rifiutato il contratto Ma l'ha detto lui Dettiamo 50 4 È importante Vediamo adesso Allora Leister ha accettato La nostra offerta Alta per Amartey Proviamo a dargli Non so Così Tiamo giocatore in chiave Per una squadra Che effettivamente Lo sarà Se dovesse venire E poi Visto Arnarum Appunto Che ha rifiutato il contratto La proviamo con 20 Anzi 22 Vai Siamo arrivata Un'altra partita Però la partita di coppa E come vi dissi Se non sballo Già nel precedente video Se non l'ho detto Lo dico adesso Io Fino a che Non dovessimo arrivare Se mai dovessimo arrivare Un anno in cui Dobbiamo Dobbiamo la possibilità Di vincere tutto Io Le coppe Le salto Cioè le simulo Come vanno vanno Più stiamo avanti Chiaramente meglio Però Non mi interessa Per niente Vediamo un po' Se almeno Vissi vince Boh 3 a 0 Anche 3 a 8 Vabbè Spero un po' Di morale alla squadra Allora Trasferimento Anita No Anita Io ti ho detto Piuttosto Allora guarda Dammi Cifra pari Cioè Il suo vero valore Vediamo un po' Se così accettano Comunque Donna Roma Siedi volo Accettato Bono Vai Almeno Il discorso portiere È sistemato Amartei Uguale Bono E c'è anche io De guarda Sì Vai Vale Quindi direi Che almeno Per ora Il carciomercato Può Terminare qua Almeno per ora Poi Se si dovesse vendere In questi ultimi giorni Qualcuno E si riesce Ad avere Una bella Un bel gruzzo Una bella cifra di soldi Magari si prova Anche a prendere Qualcun'altro Però per ora Il carciomercato Finisce qua Intanto Fatevi mettere Comunque I giocatori Appena arrivati Nella squadra Allora Innanzitutto Aspetta Faccio così Così Prova una giampanchina Amartei qui Poi Vai così E Odegaard Non gioca Perché comunque Non è ancora In grado di giocare Poi è troppo basso E ha veramente Delle caratteristiche Troppo bassi Per ora Per poter giocare Ritolare Però Lo mettiamo in panchina Tanto non è che L'abbiamo pagato L'abuso di soldi Quindi Può essere un buon investimento Spero Almeno Allora Intanto La nostra Controfferta Quella per quanto riguarda Anita L'hanno accettata Bono Così vendiamo anche lui E facciamo anche il sordino Giocatore venduto E nel frattempo Siamo arrivati Ad un'altra partita Di campionato Guardiamo se Adesso Con i nuovi Innesso Nuovi acquisti Possiamo Per quanto riguarda La partita di campionato E quelle giocate Appunto Possiamo Concludere la partita In maniera diversa Comunque Fatemi togliere Azzu Che mi aveva arrivato Il messaggino Che è scritto Che era stanchino Vieni si leva E Niente Iniziamo Dai Evin Guardiamo se Almeno questa volta Con i nuovi acquisti Ci sia un po' In maniera diversa Giochiamo in notturna Battiamo il calcio Inizio noi Quindi guardiamo se Magari Questa sabì Può cambiare qualcosa Vabbè Si spera Magari Cominciamo Una sottesima Sperstizione E niente Diamo il via La partita Vai Mitrovic Dio buono De Vai Amartey Dio buono Peccato De Dai che Però per ora L'odio toccando Mi sembrerebbe Che ci siamo Vai Tillemans Tira Dai De Vabbè Si conclude così Il primo tempo Zero a zero C'è da dire Che però Sembrerebbe Lo ridio Che Almeno un go Forse Lo potremmo fa O perlomeno Sembrerebbe che Comunque Siamo entrati Nel clima partita Via diciamo Infatti Come vedete anche Dalle statistiche Per quanto riguarda Le azioni fatte I tiri Siamo in vantaggio Noi Iniziamo il secondo tempo Guardiamo un po' Di concretizzare Quel po' Che si crea Dio buono De Comunque Fatemi fare un cambio Che mi pare Tillemans Era un po' Stanchino Sì infatti Facciamo fare Anche l'esordio A Odegaard E fra l'altro Adesso qui Levo Dov'è Arriba Vai Gamets Permette Castagne E levo Ricci Che anche se Non è il suo Role ideale Di quello che entra Ci metto Scelvi Mamma mia Bravo Donna Rumade Si era fatta Anticipare Non so chi Di testa Vai Vai che non è fuori gioco Tira Eccola lì Mitrovic La sblocca lui Al 72 Era ora Era ora Era ora Finalmente Come era Mitrovic Dio buono Vai che è l'ultima azione Vediamo un po' Se riusciamo a fare qualcosa Eh Sono tutti stanchi Niente Infatti Era l'ultima azione Come ho detto Finisce così Scarto minimo 1-0 Però chi se ne fra Che abbiamo vinto E ci voleva Per quanto riguarda Il campionato Dopo le ultime due partite Mamma mia Procediamo verso la fine Del calciomercato Ottimo lavoro Voleva Ciao Novitz Volevamo solo ringraziarti Per il tuo contributo All'aggiungimento Delle obiettivi del club Forma del brand Previsti per la stagione L'obiettivo era Guadagna almeno 15 milioni Dalla vendita Delle magliette Questa stagione Non ci avevo fatta Senza di te Esagerati Allora c'è un'offerta Per lui Proviamo con 100.000 Comunque sono soldi Loro usciranno Valle altre 25 Accettiamo L'altro per 25.000 No 100 era un po' 25.000 Non ne parliamo Accettiamolo Vai Io però ragazzi Lo voglio Adesso me lo danno Non costerebbe tanto No facciamo le offerte Direttamente Tutto è fattibile Quindi proviamo Con 1.8.000 Allora intanto È arrivata un'offerta Per Grufran Se Dio vuole Dai dai E proviamo con 3-2 Vediamo un po' Se lo accettano Tra l'altro Uno giocatore Che probabilmente Non girerà mai Quindi Prima se ne va Meglio è per noi E per lui Poi Madonna santa Hanno rifiutato Per Cerni Proviamo 2-3 2-9 Però boh Si prova Che lei lamenta Si dà nulla Prima era fattibile E lui stava a 2.000.000 Quindi la cifra Dove essere intorno a quella Ora no Vabbè Strana Che cosa Allora Per Grufran 3-1 Vabbè Si accetta 3-2 Quindi va bene così E Cerni Hanno accettato L'offerta 2-3 Proviamo 7-8 Mettiamo Turnover Che probabilmente Anche lui Come Odega Giorà poi Punto Di certo Non titolare Per ora è abbastanza Scarso Sperando poi possa Crescere in futuro Però Noi se nel caso Lo prendiamo Speriamo anche a po' Allora Grufran venduto Cerni La c'ha da rompele palle Allora Prendiamo 8-2 4 E turnover Ho accettato Cerni Via Ale E abbiamo anche lui Qualcuno Diciamo Della vecchia Della vecchia Shurma Chiamalo Sì Dell'anno scorso Comunque Boia Abbiamo fatto L'offerta Per 2-9 Per Cerni Non si stava attenti Probabilmente Andava lì Probabilmente Comunque Procediamo Guardiamo se Arriva a qualcosa Siamo arrivati A quella che è Vabbè L'ultima ora Del carciomercato Estivo Non succede niente Perché non ci sono arrivate Offerte Noi abbiamo fatto Offerte E quindi In conseguenza Il carciomercato Termina qua Allora Quindi Fatevi vedere Una cosina La cosa è questa Io direi che Per la categoria Non è per niente male Bisogna solamente Trovare Nel gioco noi E Boh E sperare Comunque Allora Se volete un consiglio Io lo do Indipendentemente Dal fatto Se lo volete o meno Allora Fra quelli che ho preso E fra quelli che c'erano Di già Anzi Sì dai Fra tutti Se non sapete chi prende Avete comunque Una buona somma Non è Una cifra esorbitante Una buona somma Un buon budget Di soldi Appunto Io vi consiglio Questi 3-4 giocatori Allora In primis Io lascio Età Perché sono due giovani Anzi Sono giovanissimi Sono stramega Promettenti E sono comunque Straforti Anche se non può sembrare Date comunque Risultati ottenuti In queste partite Non posso garantire Che sono straforti E sono promettentissimi E hanno una crescita Esponenziale Clamorosa E sono giovani ancora Qui diciamo Che fra l'altro Sì è una cifra Diciamo Sono qualche sorde Perché si va oltre 10 milioni Però se non me ne vale la pena Quindi se Ve le ho stransiglio Se vi abita Prendeteli Poi subito dopo Donna Ruma E Tilemanze Però tutte e due Non so quanto passano a crescere Se non me donna Ruma Sarà uno sbotto Però non lo so Perché Loro due le riusciano L'anno scorso E probabilmente sono rimasti uguali Gli altri due Non lo so Tilemanze Quest'anno Cioè Mi spiego L'anno scorso Ce l'ho avuto Nelle svariate carriere Che ho fatto Così Da solo E cresceva tanto Però quest'anno Lo vedo un po' più macchinoso Quindi non lo so Se nel caso Se avete qualche spicciolino Ve lo consiglio Perché anche lui è giovane Donna Ruma E il primo anno C'è Diciamo Ed è così forte Già Avee 76 77 17 anni Non è niente male Se non me è stare uno sbotto Però Non lo so Però ve lo consiglio ugualmente Perché comunque Se non me sono allenati Diciamo Con gli allenamenti Con gli allenamenti Quelli che potete mettere No a voi Ogni 27 giorni Se non essere uno sbotto E ultimo Non ultimo E Memba Che faceva già parte Di Newcastle E ha 22 anni Se non sbaglio È diventato Già un 79 E ve lo consiglio Gli altri Tipo De grande cerni Castagne E boh Non lo so Bisogna un po' vedere Io lo alleno da solo Se guarda un po' Cosa Cosa ne verrà fuori Comunque Questi sono i miei consigli Sperando che Anche se mi sono spiegato Un po' malino Abbiate capito Comunque Quali siano E perché ve le consiglio Niente Spero che comunque Il carciomercato Vi sia piaciuto D'altronde Quello che c'era a fare Con i soldi Che avevamo in disposizione Era più o meno questo Potevo spendere Qualcos'altro Ma preferisco Tenermeli Per eventualmente Acquistori in futuro L'ultima cosa Non vi garantisco niente Però probabilmente Se riusciremo a vendere Quei giocatori Che non potevamo mettere In lista Perché erano 9 arrivati A gennaio Probabilmente a gennaio Si farà un carciomercato Ancora più entusiasmante Però non vi prometto niente Perché non so Come daranno le cose Dito questo Niente Speriamo che Già nella prossima Partita del campionato Possiamo riprenderci Come abbiamo fatto Nell'ultima E spero ovviamente Che con questa rosa Possiamo Lottare per la promozione E perché no Andarci Nel Premier League Chiaramente Via Detto questo Arrivano le conclusioni Come sempre Vi ringrazio In primis Per la realizzazione Vi ringrazio anche Per i consigli Che mi avete dato Sia quelli che mi hanno scritto Sotto al video Sia quelli che mi hanno scritto In privato Le svariate chat Su social Via E niente E poi vi ricordo Come sempre Di mettere barrafari Se volete Queste tre cose Ovvero In primis Mettete un bel Mi piace al video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Beh ragazzi Ci vediamo al prossimo video Speriamo Di non essere così raffreddati Almeno Di non essere così raffreddato io E niente Vi aspetto Ciao Ciao